simpaticissima questa candid camera intitolata selfie call boss afferma di Michele Cordaro che ieri 10 febbraio 2019 ha realizzato questo divertentissimo servizetto da 4 minuti circa o poco più in cui va a mandare un saluto al boss zio Carmelo che si sarebbe ritrovato in carcere ovviamente è tutto falso è un personaggio buttato lì simpaticamente messo ed etichettato come zio Carmelo per far sì che arrivi a lui stesso i saluti dei VIP e così Michele Cordaro armato di tablet va a chiedere un selfie a diversi personaggi famosi in particolare Eros Ramazzotti, Marco Maccarini, Anna Tatangelo, Rormos, Giovanni Caccamo, Mamotto Nino D'Angelo, Il Volo, Arisa, Enrico Digiotti, Red Ronny, Shade, Ermal, Mehta questi personaggi incontrati che si fanno l'autoscatto con Michele Cordaro che poi andrà a mandare simpaticamente parlando e fintamente parlando ad un ipotetico zio Carmelo che ovviamente tra virgolette non esiste per farci ridere e per allietarci la serata beh, complimenti dunque a Michele Cordaro iscrivetevi, commentate, un salutone e al prossimo video da Narotore Italiano grazie a tutti